Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballJersey. Io sono Stefano e oggi vi presento la terza maglia del Barcellona per la stagione 21-22 nella versione Player. Il nuovo kit ha un'anima piuttosto innovativa. I colori e lo stile della divisa sono infatti piuttosto simili a quelli della prima maglia, ma è tutto reinterpretato in un nuovo e accattivante design ispirato alla città catalana. L'idea alla base è quella di raccontare la profonda sinergia che lega il Barcellona e il suo ambiente dal punto di vista geografico ma anche culturale. Nella trama della maglia infatti è presente un complesso disegno ispirato all'urbanistica e all'architettura della città catalana. Il risultato è davvero pazzesco. Le strisce della maglia, che richiamano le sciarpe indossate dai tifosi quando si regano allo stadio, sono intervallate da silhouette stilizzate intrecciate tra loro. Rispetto al classico alzulgrana, i toni e le sformature di blu e rosso sono decisamente più accese e più vivaci. La maglia è prodotta utilizzando 100% di polioestere riciclato da bottiglia di plastica. La tecnologia Nike Dry Fit Advance unisce un tessuto che allontana l'umidità con lavorazione e caratteristiche avanzate per garantire pelle asciutta e maggiore comfort. Ragazzi, wow! Questa maglia è veramente bellissima. Nella mia classifica questa prende 4 stelle e secondo me, di quelle del Barcellona di quest'anno, questa è la più bella. Ditemi voi cosa ne pensate. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per poterla acquistare. Ora, prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità, se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia L della versione player, quella identica a quella dei calciatori. Grazie a tutti!